Vogliamo proporre proprio questo cammino culturale che abbiamo già annunciato nel recente incontro che abbiamo fatto presso la sala dei gruppi parlamentari a Montecitorio, lo ha fatto il vicepresidente Salvatore Sardisco, annunciare a tutta l'Italia, e direi pure all'estero perché probabilmente avremo una delegazione che arriverà da Madrid, di studenti, il Festival della Legalità e della Gioia, che noi facciamo subito dopo il 9 maggio perché, come dice Monsignor Carmelo Ferraro, noi siamo la risposta al grido di San Giovanni Paolo II quando lasciò l'anatema, verrà una volta il giudizio di Dio. Abbiamo pensato di creare due giorni, il 18 pomeriggio saremo davanti alla sede di presidenza del Parlamento della Legalità a Montreale, dove Nicola Di Matteo, il fratello di Giuseppe, il bambino sciolto nell'acido, potrà una pianta di tanti fiori, fiori del profumo di libertà. E poi, ecco il grande appuntamento, il 19 maggio alle ore 9 del mattino tutto il mondo scuola sarà presente a Piazza Ex Piazza Anita Garibaldi, Piazza Beato Padre Pinopuglisi, dove proprio nel luogo dell'eccidio noi canteremo la vita. Verranno ragazzi da tutte le parti, anche della Sicilia, per cantare la bellezza e dire ai carnefici di Cosa Loro con un proiettile l'avete ucciso ma noi gli ridiamo la speranza e la gioia. Sarà con noi il già questore di Palermo Renato Cortese, Presidente Onorario del Parlamento della Legalità Internazionale. Leggeremo il messaggio di Monsignor Antonio Stagliano, che è il Presidente della Pontificia Accademia di Teologia di Roma. Nel pomeriggio ci sposteremo presso la Casa del Sorriso a Monreale, dove il nostro Vice Presidente ha già coordinato un grande concorso canoro letterario e artistico, dove faremo festa con i bambini della Casa del Sorriso e sarà pure con noi il bambino più bello d'Italia, che è il piccolo Antonino Caponnetto. È un appuntamento di gioia, ecco perché abbiamo voluto aggiungere, e questo ci tengo a sottolinearlo, che legalità non è solo dire ai carnefici di Cosa Loro noi prendiamo le distanze, no, ma deve essere un inno di gioia, di speranza e di amore alla vita, cantare la bellezza di dire che Padre Puglisi, sì, lo avete solo ucciso, ma l'avete fatto passare alla storia e chiedo anche di poter aggiungere una battuta, quella di ringraziare l'Ufficio degli Insegnanti di Religione Cattolica dell'Arcidiocesi di Palermo, nella persona di Don Antonio Zito, per il patrocinio, come anche Maurizio Artale del Centro Padre Nostro, che insieme tutti e tre le realtà porteranno avanti questo messaggio di amore alla vita.